Restiamo in Piemonte per parlare di sanità. Ci sono regioni virtuose e regioni che lo sono decisamente molto meno, anche e soprattutto in materia di sanità. Ce ne parla l'assessore al bilancio della regione Piemonte, Giovanna Quaglia. Il governo introduca finalmente i costi standard nella sanità. Non è possibile che regioni virtuose come il Veneto, la Lombardia e il Piemonte subiscano incolpevolmente gli effetti negativi di quelle realtà che hanno sino oggi operato con scarsa lungimiranza, accumulando sprechi su sprechi. A parlare l'assessore al bilancio della regione Piemonte, Giovanna Quaglia. Sì, sicuramente ci sono dei temi prioritari che sono stati discussi nella conferenza. La sanità in primis, i trasporti, il governo del sistema del welfare che è il primo dei problemi, prima delle risposte che i cittadini aspettano dalle regioni. Poi naturalmente c'è la parte che riguarda le risorse e quindi il federalismo fiscale. Credo che sarà importante per capire su quali temi il governo riuscirà a tornare a interloquire con le regioni. La prima grande svolta sarà con le province perché su questo tema già ci eravamo confrontati, c'è una scadenza alla fine di quest'anno, una risposta che bisogna dare soprattutto a dei territori dove il governo di area vasta è necessario.